cosa ripariamo oggi il nostro cliente ci ha portato un iphone 12 con un problema di rete un po particolare la rete 5g spariva di tanto in tanto siamo partiti con l'ispezione abbiamo separato i due layer e abbiamo cominciato a testare il layer inferiore trovando due linee in corto queste due linee ci hanno portato sotto a questo integrato che stiamo togliendo questo è un amplificatore di potenza del segnale testando nuovamente le linee notiamo che il corto è sparito ripuliamo le piassole andiamo a prelevare l'integrato da una scheda donatrice ripuliamo e facciamo il reballing di questo ic che non è nuovo ma è usato di un'altra scheda ripeto eseguiamo il reballing andiamo a saldarlo sul nostro layer inferiore gli integrati usiamo sempre la pasta 180 gradi quindi la pasta più bassa come temperatura di fusione sempre per tenere la temperatura dell'aria calda più bassa per stressare meno la scheda andiamo a testare le piassole e ora sono perfette eseguiamo il reballing dell'aria inferiore veloce 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 fondiamo tutte le nostre piassole di pasta per farle diventare delle sfere vai vai sciogli 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 e ora sul riscaldatore andiamo a assemblare i due layer ok ricordo che tutti questi passaggi li trovate anche sul mio manuale anche se non è del 12 e comunque dell'iphone x ma le procedure sono tutte identiche andiamo a rimontare la nostra scheda nella scocca e andiamo a fare il test vediamo se il segnale è tornato in questo caso proveremo con 4g perché non abbiamo la scheda 5g disponibile del cliente comunque va bene anche la sim 4g perché comunque il difetto era peggiorato quindi era sparito 4g e 5g era sparito totalmente il segnale inseriamo la sim e vediamo che 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 eccolo lì il segnale bello presente ed ecco il segnale comparire e voilà ricordatevi il bellissimo corso con regua a roma ciao ciao a tutti